più di poter prendere il v2 di cazzo si chiama l'italiano di merda riusciano potrei avermi credo quello lì il problema è che alberto ho trovato un bot del new hero del bot che aveva il take hold di oh why run ok sto pensando di farmi il dribbling 1 quello di di come cazzo si chiama qua merda di ino come il primo ok e dopo quello di ryan o quello di bucci di il problema è che bleca un po un po lentino ryan e ino porco dio cazzo no bello si può fare filtrante ma dai non l'ha messa in due volte mochiappando va bene con niente merda merda parte 2 flash a cosi a cazzo no minchia se flash a bestemmia ah minchia ma io c'ho spadas cazzo avevo dimenticato ma ce l'ho anch'io i spadas si si no ma è per dire che tipo c'è poteva potenzialmente forse anche flashare no cazzo ma no merda aspetta mi dispiace dai è stuprato tu cugino ogni socio i giorni o non ci credo ma porca eh giustamente vai steva alle vigno no venga preso mi prego nooo non si crede ma vaffanculo minchia spada sportire dell'anno beh aspetta ti ho detto una cosa sai che tipo c'ho la squadra non passa la squadra con il mio numero e ryan che fanno il ok questa entra mi sa non entra appuntamente justice blake l'ho trovato uno in ho sempre l'argento vabbè un botto sempre ok in che senso in porta aveva i shizaki no in che senso in porta aveva i shizaki no i shizaki e vabbè ok mi ha parato un justice blake quel bastardo lol e io come si e come è possibile ha bloccato lui tresti eh vabbè eh vabbè dai blake c'è il buonac del caso che mi dice l'ho spettacolo di che te l'ho detto eh vabbè nooo non ci credo non ci credo parte 2 vieni Pierre vieni no non l'ho visto porco dio nooo non ci credo fanculo right allora che spammava r2 no 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 3go bullock blocca uoooo poco merda onli scusi lei aveva il si lo so me di maison anche il r planetary me due di averla Perché sai come è essendo abituato a FIFA non guardare sotto Perché la stamina del giocatore ce l'ho sopra Quindi non guardo sotto GG Cosa? Non ci credo Riusciamo a fare un tiro? Vediamo No ok, non lo scende No 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 Cosa? Come scusa, è già per terra lui Rana di merda Cosa dico rana di merda? Che mi sono proprio se il dribbling con il mio video delle medie No dai sto levin Epilettico cardiopatico No No Pazio porco Ma sta tolto con il tiro del cazzo No era giusto Eh vabbè Dai Ma cosa? Non mi darà con un scelto Peccato Io vorrei dire che sono doveva fare un tiro Però Vabbè Adesso si tiri Eh mira col tippa Io provo che si tiri il portiere Merda No Di passaggi di merda Oh Ma va ma stai scherzando Ma che palla Qualcuno che ci va di? Grazie Ma stiamo scherzando No 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 Porco dio No Epilettico No non vedo dove cazzo è l'altro Perché da visuale sulla palla Non sul campo Palla Merda Andiamo a fare un tiro Chiedo No non riusciamo Non riusciamo Cazzo No dai Il demo del possesso Che merda Lo togliere Che schifida Inutile Dai Ma qualcuno Porco dio Ti faccio dei fianco Wirehunt Che cazzo è Che cazzo siete Insomma Dei naker Di merda Dai ma che sei Ma siamo seri No io sto super Da campo Merda Ti sembra piena quello là È negro No mi sembra piena Negro Cappuccino Dai ma ma fa culo ma cosa Ma siamo seri Merda No dai ma segno dai Ma in pio da coglione Porco dio Porco dio Ma no sengor dai Ma che sengor Ma No vabbè Adesso vedere Replay Ti prego Senegalesi di merda Amazza Ti coglioni Ma stiamo a scherzare Ma dai Ma 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 guarda Ma guarda Vaffa culo ma dai Io rido Ma credo sia stato il gol più bello che io abbia mai visto proprio Figa Ma perdo pure falla Vaffa culo Oh Ho sbagliato Dai va bene No mettiamo dentro Yuga e vaffa culo Ma come Yuga Adesso Yuga io Ma che schifo Lei fa Cambio modulo Tiro via Sengor O Ryan Mettendo dentro lui Giusto In effetti Anche Yuga potrebbe essere Una buona opzia E vabbè Vabbè Adesso riesco a flashare con No Perché giustamente Il senegalese di merda Rompito i coglioni Oh Bello Sto passaggio Porco dio E che io voglio farmi anche Tiro combinato con Carlo E devo farmi tira con quel coglioni lì Che schifo No 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 Un bello addrone Che corega ore no Eh vabbè Vaffanculo Ma Cosa Supera bu Perché sono in vantaggio Giustamente Perché non ha dato niente Però E vabbè Minchia Ma Da Praticamente Metà campo E in più È passato anche sulla Minchia di Bunnack Quindi ci mancherebbe Via sereno Lei Allora Facciamo così Facciamo Porco di Ok Così Lui mettiamo qua Vediamo se va così Dai questi caricamenti Gioco Oh 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 Vabbè Oh Vabbè Oh Vabbè Ma Ma vaffanculo Neo Taiga Asciutta Non ci Ma dai Ho premuto la vzone Però l'ho premuto Sì Oh porco Possa Juve Rip Ora portiamocelo a casa Tu non è una casa Sei il profumo di merda Arabo No No Guarda che Porco Dio Di Eh Vabbè Levin Prima che si muova Che bastardo Vì La bizzonda L'ho dimenticato Minchia Kaioken di Goku Di Tarosso Corri No Chi cazzo l'ha visto Il pelato di merda Porco Dio Sai Levin Corri Madonna Ti è morto la fidanzata Non devi fare un cazzo Eh ma fa culo Eh minchia Rip Fai meno di taglini Porca puttana Ma se arriva l'ebreo Guardalo va Merda Merda Porta 2 Porta 2 Salve No Vabbè Sei riuscito a marcarmi L'unico che non mi dovevi marcare V2 Ma poi come Ma come Ma si V2 cazzo Cristo santo Ti è riuscito il mio V2 Così Alla cazzo di cane C'è minchia da dentro l'area Tra l'altro Hai il dragon sotto Merda No Non devi fermarti Però coglione Vai 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 Porco dio L'arabo di merda Oh Ma vaffanculo No Cosa faccio Mi metto un palo nel culo o no No Yuga porco dio Non ci credo No Guarda se devi recuperare così Vaffanculo Faccio mailine a tutta la portata No Mi metto un palo nel culo No Vai voto No vabbè What? R1 premuto Vabbè la figa Orco dio No Dai Avanti Quanto ti devo segnare Quanto ti devo flashare anzi Vabbè no No Non ci credo L'ultimo che blocca L'ho fatta in mezzo a 20 persone Vabbè dai però Vabbè Non ci credo mai Non ci credo Ti prego Fonda le mani a quel messicano di merda Eh vabbè Siuuuu C'è cazzo Mettiamo il culo a tutti Mamma mia che potenza questo uomo Questo uomo Questa ragazza Questo uomo Andato Oh Porco dio No 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 Il capo è la massa del mio di miro Ma tra l'altro Tra l'altro non sono nemmeno riuscito a fare il v2 Non so perché Vabbè però Questo Questa è violenza Non ci credo Vabbè No Il toprame r1 Ha potuto votarli Porco di Dai porco dio Levin No Ti prego Ma vaffanculo Bunak di merda No No Sì No dai Non recupera stamina Sto cosa Sto cosa Sì perché Non è nemmeno una persona Non merita nemmeno Di essere chiamato persona Vabbè No I Ma è su Meste Haru Che cazzo dici Non lo so Cristo Passala porco dio Non va la X Porco dio L'olandese drogata Danza Non mi devo venire a prendere Non è Non è Che abuso Dei miei Vadovi Un bastardo No Ti prego Ti prego Sì Stai zitto che giochi in azione di merda ma non ci credo se non provi a flashare giustamente puttana adesso tu ti fai la big zone io tiro lui fai e vince non ti pare ovvio ma cosa ma dai me l'ho presa ma stiamo scherzando considera che io ho visto tutto buggato quindi ti piace merda non ci credo ti prego madonna santa non l'abbiamo persa oddio prego io ci ho pier buggato ancora no ma porco dio ma non l'ho preso lì non l'ho preso ma cosa merda ma porco dio vabbè guarda come devo andare a perdere per un coglione di un messicano del cazzo che fa anche schifo cazzo vai ma mattiamo ma vai figa dai mi sono reso conto adesso che hanno usato lo stesso stampo di yuga per ino perché c'è la stessa scivolata ma la gamba è altata lol ma si tu considerai comunque ino e yuga sono tipo due facce della stessa medaglia più o meno ma cazzo dai cazzo porco dio che gioco di merda guarda te non ci credo vabbè ma cosa no vabbè dai bel gioco cazzo perché ne ha passi indietro coglione di un coglione ma oh guarda guarda non partono i tasti porco ma vabbè quello è strabico ti prego ho una squadra di handicapato uno strabico un epilettico non so ma va fuo il culo bunnac del cazzo mi cazzo è successo perché è partita non ho fatto niente eh vabbè per i peroni vuol giocare con mano su tastiera mi fai dicendo si che vuol cominciare con mouse e tastiera così a casissimo beh però se ci pensi partipolo allo scontro aereo è più semplice cioè quattro testi protaccati e anche questo se ti metti lì possiamo usare le altre squadre che siccome mi fanno sboccare a squadra di handicap